Benvenuti ragazzi oggi qua l'erciere spese è popolatissimo Ciao ragazzi, io spero che voi da casa mi sentiate Comunque volevo presentarveli Qua a mia destra Fate l'amore in giro Simone Giovanna Gavandra Sonia Esmerla Teresa Cristina Veronica Martina La carica Che gatto morcono perché la carica la conoscono Quindi ragazzi andiamo con stress jump Andiamo a scatenarci Oggi non abbiamo già fatto rispetto Ma ci ringraziamo La mia controlla oggi è qua A un'intiposità andare dietro il contatto Quindi Partiamo Si trova un leggo per partire Facciamo dei benessi Che bel silenzio Che non ha tra poco silenzio Stiamo a mettere da più Ragazzi Sto la faccio adesso Sale Sale Cambio Cambio ancora Kaio E l'ultimo l'ultimo ragazzi piccolo concentrato stacca i piedi stacca 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 1 stacca stacca 2 jump in già in quattro tempi apri 4 1 si chiude riapro ragazzi dammi il filo doppio 2 2 e dammi subito il ciclo 4 3 2 2 ancora dammi concentrato 8 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 camp in già ancora a destra di lato che è concentrato tira a destra andiamo giro camp in già 4 3 2 sinistra io direi che dopo di questo si stia bene che si stia andati eh si gira giro 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 qui ok ragazzi due volte tra davanti va cambio 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 quattro 4 ai dotthi piccoli cambio Cynthia giro giro si banchi a colare la pausa giù sinistra pausa ancora pausa dame l'ultimo dame l'ultimo occhio a me ancora guarda apri sono sempre quattro denti andiamo apri come stanno gli atto finali da distratti giù l'ultimo occhio che aggiungo destra giù 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 andiamo uno ancora tra poco arriva il sonoro e mi sa che stanno a forza questo sonoro ancora voglio la voce di là vai più forte su te e si fa 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 vai 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 2 2 ultimo 4 3 2 si va si va 2 andiamo 4 3 4 ultimo cambio ragazzi quando arriva questa canzone bisogna cantare ma che viene ultimo rimando a centro si canta si canta si canta su 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 ucchio di qualcosa cambia da capo su Abbiamo aperto la finestrina e abbiamo messo dentro un po' di cose, più di 8, più di 6, più di 4, l'ultimo. Andiamo. Il mare è la che state, con il suono delle sirene delle chicane. Finita. Gampi in via che hai fatto. Chiudo. Baggio su con le gambe e apro. Andiamo. Gli obbligo a quarto. Un altro. Leggo, go, go, go. Sopio. Guardiamo le braccia su. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro. ma vediamo 4, 3, doppio verso avanti destra, dietro di nuovo avanti guarda, singolo, giro a destra giro 4, 3 rivolgo la stella doppia ancora singolo, giro, sinistra giro si lo guardate sulle braccia che ne dite tagliamo ancora ragazzi, singolo con due parti, grazie 1, 3, 2 si fa, si fa ancora singolo, sinistra stella, 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 stella dal campo 3, 2, 1 stella, stella, stella stella, stella, stella stella, 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 stella al campo solo uno, sinistra Ragazzi dammi una marcia doppia e adesso andiamo un po' a divertirci, so, andiamo! Avetevi in mente la buona anima di Michael Jackson che ha fatto dei videotrip di studenti? E' una situazione di terrore, allora stop! Mamma mia, sinistra! Stop! Come è andata? Andiamo! Stop! Lavoro di addominale! Ultimo, sinistro! Stop! Yes! Chiudo lo strado! Stengo! Ora non vi preoccupate che si invertiamo! Molto a destra! Cambio! Dammi le quattro a destra! Dammi il doppio! Doppio! Mamma! Io direi che il doppio ti basta! E se mi dite? Modio a destra! Doppio! Avanti! Vietro! Stop! Torno! Dove va? Pronte! Doppio! Avanti! Giro! Stop! Torno! Ancora! Due! Due! Giro! Stop! Marta! passando! Ragazzi! друг le torsio! Margherie mani! ! Allora! Siamo laterali! ורio! è tutto, siamo laterali, guarda qui il cammino verso lì, dietro, la camminata di nocchia però, ok bene, stop, dietro, andiamo, giro per il metro, thriller a destra, doppio, flamo a destra, pronti, camminata thriller, del metro, stiamo a sinistro, flamo a sinistro, andiamo, camminata, giro, thriller a destra, solo, vai a vedere la parte del metro, giro, giro, tr largely volto con un disco, giro, 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 va a vedere, gara, attra, i resti, a sinistro bote stella two two finger 4 3 andiamo na 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 si incontriamo diventiamo i tongli vediamo uno fila va bene guarda si va go tre guarda guarda andiamo andiamo rimando qua dai che è andata vai via respira 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 4 3 2 8 tempi ragazzi ci ricordo macinato macinato dove è andata la casa? non mi ricordo guarda trappo del secco cambio cambio vedi cambio cambio ragazzi 4 no 3 ancora l'ultima come se singolo di panico e l'ultima come se 4 avanti e l'ultima e l'ultima e l'ultima vado c'è la vado il lungo vado e l'ultima si va, oppure vado nelle laterali eh, prima e dentro, vedi, vedi, vado a destra, vedi, si fermi là, di nuovo, quattro, vedi, 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 v l'ultima uno vai ancora questa è l'ultima come se la menù ragazzi c'è il thriller giudono lateral cammino due teni metro tirisura giudo tira ah sì dai sui nai giudo uuuu quinto quattro dai un nido dai un docio dico 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 quattro panam quad ragazzi mi vedo il telefono indietro del telefono negarico concentrato indietro del telefono sentita la gara ragazzi non metti più il diretto no? camminata lunga ancora scopta il canto a destra e a sinistra per la volta che quattro tempi quattro ancora dentro ancora vai subiata giù occhio a me quattro pausa sinistra pausa ragazzi poniamo il telefono pausa ancora oh ma che è questa? aspettate una chiamata qua guarda ragazzi giù apro apro chiudo quattro apri ancora vai lavaggio doppio chiudo apro chiudo apro chiudo stai con il vento ragazzi qui nel telefono non c'è di scoprire tre due andiamo aspetta telefono aspetta telefono aspetta è l'ultima chiamata giuro aspetta rimani qua dentro uh ok allora noi aspettiamo tre chiamate o perlomeno Tony aspettava tre chiamate alla quarta è arrivata la medesola per tutto ok quindi si è un po' di nata si è sbocciata si è un po' di nata si è proprio appassiata ma poi la chiamata è bassa cheταv我是 già finto i metto stenuti qua DOWN PINISTRA 4 9 let pausa eccola qua andiamo 4 6 andiamo vui supporta ma Esca l'ultima un e rimani ok occhi e le nosso perfetto Marta Vecchia Basta Io non ho mai capito se questa canzone dice Basta o Basta Non bella Abbiamo un po' di pace Occhia bene Mi bruco le mani Fingo su Su Ancora Siamo conti alla margine Mi bruco col concentrato Tre Davanti Vai Stop Due braccia Jumping back Guarda Marcia destra Incrocio le braccia su Molte le braccia su Molte le braccia su Due volte le braccia su Guardano Guardano Campi No Troppo Troppo Tutto bene Occhia bene Pronti a chiamare? Sì Dai la prima chiamata Campi in me Marcia Sperimento Seconda chiamata A Invece Chiudo Archi Qua ragazzi? E' quella buona? Giudo, braccia Guarda Chiudo Stop la prima chiamata ci scoccia la seconda chiamata ragazzi non ci va troppo e la terza la quarta è quella buona 3 2 andiamo chiudo marcia a giro a destra veloce seconda chiamata chiudo giudo a giro a giro a sinistra terza chiamata ora c'è una bianca rimani qua però guarda ecco la barata 2 giusta 2 2 2 2 come è andata? le chiamate sono andate 4 3 ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi andiamo voce e e e e e ragazzi inizio voce e 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 vai dando sudando chissà che qua qualcuno sta sudando la indietro inizio seguità sudiamo ancora dammi uno da dammi uno ragazzi si lasciamo secondi uuuuuh uuuuh e presenta uuuuh uuuuh chiudo pronti pronti drivo in camminata vedi dentro si chiudo guarda giro si di fondo 4 cammini una mano a destra ancora 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 dai per l'ultimo ragazzi non so voi ma che se si vedevano 3 2 riporti al telefono chiudo smacca giro si richiamano chiudo incrocio le braccia terza chiudo stiamo soccati porta ecco la zona e punta e 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 oggi ragazzi viene avanti stop marcia dentro e dentro dentro e sinistra viene avanti 8 e c'è la destra ecco ma un b c'è la sinistra guada attiva d come va come va? come va? andiamo e le braccia è notate con una palla andiamo ti guardo ti guardo sali ragazzi ve lo dico solo a noi subito da capo andiamo ehi ehi brazzo ehi mamma mia ragazzi uno ve lo dico lo dico lo dico si va avuto segresti segresti brinda guarda fronte camminata guarda tiro finestra diamo guardami guarda il busto e la scena quattro andiamo 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 ragazzi pure il vero raccomandato prima cosa allora il lavoro di mettere il silenziatore al telefono e con il telefono marcia giro si va incrosso le braccia giro andiamo mi arrabbio è quella buona sorrini è quella buona eh eh oh 8 ora ora ragazzi tengo che un pochino guarda le braccia guarda le braccia canto allora andiamo a fare una bella biciclettata ok il compagno di Giovanna andiamo andiamo ancora andiamo 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 pausa 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 andiamo pausa occhio a me qui destro 8 cambio 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 dai che siamo alla fine la loro fine 4 3 dammi il doppio dammi il singolo ok ragazzi bicicletta destra bicicletta subito a sinistra e più in centro stop dai pronti 4 3 2 destra cambio subito twist destro diva basta sinistra cambio il twist è sinistro singolo stop pronti che col twist giro destra cambio ragazzi il twist giro a sinistra andiamo stop wow wow andiamo cambio qui a sinistra andiamo camminando a destra doppio da dentro da dentro mani giovanna quando vai bicicletta poi torna a casa che fa la doccia giusto laviamoci il pancino passiamoci lo shampoo faccino 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 senti che la voce vedete tra l'altra ancora ragazzi il twist giro che lo ritorniamo andiamo spetta cambio quinto giro la sinistra camminando camminando sinistra mancino giovanna cambio twist giro destra shampoo stop wow 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 da capo da capo un altro giro da capo si ponici su si ragazzi da muro aspettiamo però la musica vai vai saltare sotto le gambe dai una volta sola da capo solo una solo una quante una una solo una quante 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 andai cito d'oro io volevo quante una quattro tre due quante la voce camminare brazzo Ehi, stella, ehi! Di nuovo stella! Ancora! Gabbè uno! Si ricordate che dovremmo poterlo? Adesso, zombie! Trille! Camminata trille! Una camminata molto buona! Trille! Avrilet! Tiro! Tiro! Cuatro! Torniamo uno! Ancora! Gabbè uno! Diciamo! De nuovo il 라io del lardo! Torni a cantare sodela! Torni a cantare sodeletti! E quindi ope le d��! Sì! Cuatro! Torni a cantare sodeletti! Torni a cantare sodeletti e attутro cosas tutte! Torni a cantare sodeletti! telefono chiudo armi appiati è quella buona chiudo lunga braccia frutta retta sinistra l'ultimo giro divanti ci stretta con Giovanna qui ragazzi andiamo a cercare la lotta andiamo ora andate 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 bravo 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 bella serata si volete bene si non vuoi bene nessuno ma andate andate spiegato e è bello sapere cosa è che sono tutti da perdonare per quel muro qua vanno tutti contro il muro non lo sanno che l'uscita è di là però c'è tutto un muro allora ragazzi la nostra bella vediamo un po' eh voi cosa gradite qualcosa di potente ma nessuno qua non ha più le forze di nessuno secondo me secondo me qua nessuno ha più la forza vabbè via vediamo un attimino cosa fare vediamo se riesco a beccare una che mi piace via facciamo questo qua allora no non ci piace no non ci piace bella 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 l'ho provata l'ho provata l'ho provata tutti sul trampolino tutti sul trampolino dai che abbiamo finito ragazzi abbiamo finito abbiamo finito buona parla adesso adesso io voglio si 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 Aspettate ragazzi, perchè a maggior parte il disinviso, facciamo il sincrono. Troppo disinviso. No, andiamo! Cari, vieni subito qua! Quattro, tre, due, si parte, andiamo! Dove, eh, eh! Quattro, tre, due, si parte, andiamo! Davide uno, chiudo! Ragazzi, con l'energia, si va! Guarda! Uno! Mi voglio thrillerissimi! Vieni! Mi voglio thrillerissimi! Fino! Mi voglio molto thriller! Giro! Per il cipolletto, andiamo! Solo uno! Vai, vai! Ogni qua! Se volete aver fatto gli stessi libri, eh! Guarda, dire, no! Ma guarda, dire, no! Guarda, dire, no! Senti il telefono! Ritorniamo il telefono! Giro! Di pronto! Rimani! Mardi! Giro! Giro! Que Kasper! Giro! Buona sita! Giro una borsa! e l'ultima ragazzi ci vanno 4 3 2 si va andiamo 2 mi lavo si va mi lavo bravi mi lavo si va mi lavo mi lavo si va mi lavo mi lavo scendono le mani ancora il punto ok stop stop ferma 2 ok destra capo ruota in avanti ritorno 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 e dà un troppo più cambia ritorno avvicinati al carter io mi metto in diagonale poi no spiego le ginocchio assegno le gambe dietro e avvicinati 2 parte dietro spiego di spiego che la gatto si pinge dietro Ritorno in avanti, a piatto, trovo la spena, mi dà un minuto di un aspiro sempre a tutta la spena. Tutta fuori. Mi dà un minuto di un aspiro sempre a tutta la possibilità. E grazie! E grazie a loro! Grazie a tutti i nostri amici, a loro! Grazie a tutti i nostri amici! Grazie a tutti i nostri amici! Ciao!